Buonasera, vediamo se siamo nel gruppo, si buonasera, allora intanto facciamo la prova audio, se mi sentite bene, aspettiamo qualche secondo, che mi scrivete se si sente tutto bene, non vedo i commenti, Angela buonasera, mi chiedete se sentite bene, Alexa volume 3, Valeria buonasera, state entrando, vorrei solo un feedback se mi sentite bene, così parto, Elio ciao, e questa sera abbiamo un po', ciao Angela mi senti bene, mi sentite bene, ciao Rosanna, volevo solo un feedback, se mi sentite bene, forse i commenti ne arrivano in ritardo, ciao Anna, si molto bene, quindi possiamo partire, si sta creando un po' di pubblico, spero che ti faccia piacere di essere qui questa sera o comunque quando rivedrai questo video, non lo so, per spiegarvi un po' questi prodotti Juice Plus, il programma Juice Plus, per raccontarvi un po' che cosa sono, quali benefici possiamo avere e un po' come si struttura questo programma che da tanto magari, veramente tanto sentite parlare, ma ancora non avete un'idea chiara, perché magari avete parlato con tante persone, perché magari non vi è stato spiegato bene o sicuramente non eravate nel mood o nell'attenzione giusta per ascoltare questi prodotti, perché noi la parola prodotti ci spaventiamo sempre, giustamente, io non prenderò mai prodotti, io ero proprio come te, non volevo assolutamente prendere nessun tipo di prodotto, sono contraria ad ogni tipo di pillola, perché non riesco ad ingogliarle e quindi quando ho visto i prodotti Juice Plus, anche io sono rimasta un po' così, però la motivazione era talmente tanta quella di stare bene, di tornare in forma che alla fine mi sono informata e quindi io ogni tanto mi vedete qui a raccontare, sicuramente avrei visto anche qualche mio video, a raccontare i prodotti Juice Plus e magari per te sei che sei anche già cliente o che li hai provati, scoprirai tante altre cose, io sono Sara intanto, ho 40 anni, mangio Juice Plus da 6 anni e mezzo e propongo Juice Plus da 6 anni e mezzo, questo gruppo dove sei è la nostra community che vive dal 2015 e dove invitiamo le persone a guardare i nostri risultati, a seguire le nostre storie e a conoscere il programma Juice Plus, il programma Juice Plus è un programma semplicissimo, il programma Juice Plus non è dieta, non esiste, ma è uno stile di vita sano, quindi quando parliamo di stile di vita sano che cosa intendiamo? Intendiamo un'alimentazione sana, un'alimentazione che può seguire mio figlio, mia figlia, mio padre, mia madre, mio marito, io, quindi togliamoci dalla testa la parola dieta, adesso devo iniziare la dieta e quindi devo fare qualcosa di diverso, no, parliamo di stile di vita sano, soprattutto Juice Plus si posiziona nel campo dell'integrazione, integrazione di frutta, frutta, verdura, omega e bacche completamente naturali, anche le nostre omega sono completamente vegane, non hanno pesce, vengono dalle alghe e da altri tipi di piante di cui ti parlerò. Tutto basato, come ho detto, sulla naturalità, ci basiamo sullo stile di vita mediterraneo, siamo italiani e quindi dobbiamo mangiare tutto, non dobbiamo rinunciare a nulla perché il nostro corpo ha bisogno di proteine, ha bisogno di carboidrati, ha bisogno di legumi, ha bisogno di un sacco di cose perché nello stress della vita quotidiana, nell'invecchiare noi andiamo a perdere, andiamo a perdere un sacco di cose, quindi abbiamo bisogno di integrare. Questo è quello che ho scoperto grazie al programma Juice Plus, questo che curo, diciamo, che prendo cura da sei anni e mezzo grazie alle capsule Juice Plus. All'inizio non avevo ben capito quale fosse l'azione di queste capsule, all'inizio pensavo solo a dimagrire, dai 14 anni sono stata sempre a dieta, oggi ne ho 40 e ho sempre fatto le diede poi con l'effetto yo-yo, perché? Perché il mio obiettivo era quello di perdere peso e basta, quindi quando sulla bilancia ero arrivata a 56-57 kg, avevo vinto, poi non riuscivo mai a mantenermi, perché? Perché quando inizio ad essere magra tutti ti dicono dai che lo puoi mangiare, dai che lo puoi mangiare, mi sono stancata di pesare, di fare i sacrifici, eccetera, e quindi piano piano un chilo, 2, 3, 4, 5, 10, 15, buffa, ho rimesso su tutto. Questo è quello che non succede con uno stile di vita sano, perché lo stile di vita sano ha come obiettivo impararti, farti un'educazione alimentare, quindi capire che mangiare bene non significa denunciare, capire che lo sgarro non è una condanna a morte, capire che lo sgarro c'è, ma soprattutto integrare e iniziare a scegliere uno stile di vita sano, dei cibi sani, come cucinare al meglio e come saper giustire feste, festicciole, vacanze. Questo è quello che vivo sulla mia pelle, quello che faccio vivere alle nostre clienti e quello che ogni giorno racconto sui nostri profili e su questi gruppi. L'importanza di prendersi cura di sé, l'importanza di mangiare bene, di scegliere bene, perché il nostro corpo è il nostro motore, la nostra macchina. È inutile che andiamo a fare digiuni prima dell'estate o digiuni a gennaio mi metto a dieta e per voi dieta significa togliere carboidrati, per voi dieta significa proprio rinunciare, insalata, non so se quanti tipi di dieta avete fatto nella vostra vita. Io ne ho fatti tanti. Poi ho incontrato JustPass che non conoscevo. JustPass appunto, parliamo di integrazione e di passo sostitutivo. Quando parliamo di passo sostitutivo pensiamo subito, oddio il beverone, quando poi smetto il beverone rimetto il doppio dei chili. No, sono sei anni e mezzo questo qui, non è che lo continuo a mangiare perché non voglio mettere peso, lo continuo a mangiare, lo mangiano anche nei figli perché è un pasto completo. Quindi si può fare una colazione completa anche semplicemente con lo shake o con un tortino che sempre vedi sui nostri profili per avere una colazione sana, perché la colazione è il pasto più importante, abbiamo gli spottini e poi abbiamo il pranzo e la cena. Possiamo decidere nel nostro programma, perché abbiamo vari tipi di programmi, di sostituire il pranzo e la cena o di sostituire solo la colazione. L'importante è che tu capisca l'importanza, scusate la ripetizione, di fare i pasti sane, di fare i pasti completi. Un'insalata non è un pasto completo, uno shake, monodosi questo e poi vi farò vedere gli altri, è un pasto completo. Sono 220 calorie, si può preparare con il latte, con l'acqua, oppure aggiungendo un po' di farina e al boom diventa un buonissimo pancake o un po' tortino. Non importa se tu hai tempo o non hai tempo, il programma giustacolo, che dovete capire, è che si adatta a voi. Il programma giustacolo si adattava a me, era una mamma con due bambini piccoli, aveva un negozio mio, mio marito non c'era mai, quindi io a pranzo non mangiavo mai, assolutamente, perché mio figlio aveva 13 mesi e mia figlia aveva 5 anni e faceva il tempo lungo all'asino. Quindi io che cosa facevo? La colazione non se ne parlava di corsa, mezzo giornale oppure andava al bar, a pranzo non se ne parlava perché non avevo tempo, poi cucinare per me che senso aveva, giusto? pomeriggio apri di cielo, mangia il frigorifero, mangia qualsiasi cosa, poi gli attacchi di fame nervosa, mi raccontavo. La fame nervosa non esiste, ok? Esiste o perché sei annoiata o comunque perché non riesci, non dai al corpo quello di cui hai bisogno. E la cena ovviamente tutti in famiglia stragodiamoci, mangiamo la pasta, tutto quanto perché avevo fame, non avevo, diciamo, gestito bene la giornata. Questo è quello che mi succedeva a me a 34 anni. E dove avevo 13 kg in più dalla seconda gravidanza e non se ne andavano. E ho fatto una grandissima fatica. Poi ho deciso di iniziare qualcosa di nuovo, non sincera, ma io ho provato veramente tante, tante cose. E ho incontrato il giusto passo per caso, poco come voi, e ho visto le trasformazioni, quelle che volevo, quella pancia, quella definizione, quella perdita di peso, perché all'inizio noi pensavo dopo la perdita di peso e ora iniziamo. Ho scoperto un mondo, un nuovo mondo. Ho scoperto quanto è buono fare colazione, ma quelle belle, quelle nostanziose, quelle da hotel, come dico sempre io da hotel. Ho scoperto quanto è bello integrare, vedere la mia pelle che cambia, vedere i capelli bellissimi, le unghie bellissime, sentirmi piena di energia, digerire meglio, dormire meglio, ma soprattutto a livello di energia. E di, come posso dire, quando io mi prendo cura di me e mangio colorato, sono già contenta. E da lì è proprio cambiato il mio rapporto con il cibo. Il cibo per me era sempre stato qualcosa che mi faceva mettere peso. Oggi mangio tantissimo e per me il cibo è la benzina del mio corpo. Ecco questo è quello che vogliamo noi duplicare e portare nella tua vita. Noi sappiamo che le donne, ormai lo devono introduttare, dobbiamo capire, il cibo è la benzina del nostro corpo. L'integrazione è la benzina del nostro corpo uguale. Perché al giorno d'oggi purtroppo non troviamo materie prime buone. Questi prodotti, in queste capsule, c'è solo frutta, verdura, obbica, vabbè, obbica, vabbè, frutta e verdura e bacche. Arrivata maturazione, noi abbiamo le nostre coltivazioni spremute, disidratate, spremute a freddo, ridotte in polvere e messe in capsula insieme alla buccia. Quindi qua ti mangi la mela e la buccia, ti mangi l'arancio e la buccia. È un pieno di tutto quello di cui ha bisogno il corpo. E il corpo prende solo quello di cui ha bisogno. Perché sono prodotti naturali. Io li mangio da sei anni e mezzo. Sulle confezioni non c'è scritto, poi smetti, come in tantissimi altri integratori. Perché hanno cose sintetiche che vanno ad appesare le reni. Questo non succede nel nostro programma. Ne siamo tantissime testimonial e siamo sempre di più. Quindi ci sarà un perché. Perché o se un prodotto non è buono, a vita breve. La juice gas sta in questo campo, in questo settore, da 50 anni. Ok? Quindi, partiamo da questo che per me è la base da 40 anni, 30 anni che tu abbia. È un prodotto meraviglioso che deve entrare nella vita di tu. Noi lo implodiamo tante volte per scontato perché non vedo benefici nel dimagrimento. Ma se un corpo, hai un corpo buono e poi lavorate sul tuo metabolismo, tu lo devi pulire il tuo corpo. Tu gli devi dare una sana abitudine al tuo corpo e vedrai come reagirà, come il tuo metabolismo si steglia anche se pensi che sia addormentato. È addormentato perché non capisce più quello che deve fare. Una volta gli dai mangiare, una volta no, una volta deve fare magazzino, una volta devi bruciare, una volta stai male, una volta stai bene. Non capisce più niente. invece se io ogni giorno gli do frutta, verdura e bacche, ogni giorno il nostro corpo vive di quello. Aria, acqua, frutta, verdura e bacche basterebbe per andare avanti. Lo sapete. Il primo cibo a cui chiediamo ai nostri figli è l'omogenizzato di frutta. Detto questo possiamo andare avanti. Parlando dei bambini, se un genitore decide di acquistare questi prodotti che sono la verdura, le bacche e la frutta, l'azienda ha un progetto pediatrico che ti dà gratuitamente per loro in forma di caramella, e stasera non te li posso far vedere perché da noi finiscono tutte, o in forma di capsula, per i tuoi figli dai 4 ai 21 anni in forma gratuita mandandoti dei questionari completamente anonimi per vedere però proprio come cambia il loro rapporto con la frutta e la verdura, anche il loro sistema immunitario, i bambini si ammalano di meno, il discorso è che noi abbiamo un sacco di obesità che sta uscendo fuori e quindi la dobbiamo andare a combattere con l'alimentazione. Perché l'obesità, il grasso, si combatte a tavola. L'alimentazione è l'80%. Ci possiamo allenare, possiamo andare in palestra, ma se vogliamo un fisico buono e che reagisce bene, dobbiamo mangiare bene. È il nostro dovere nei nostri confronti. Buonasera a tutte ragazze. Quindi questo è quanto e come vanno prese? Queste vanno prese due per colore al giorno, poi ci sono persone che ne prendono anche di più, io per essere un minimo accenno di cambiamento di stagione, comunque bisogna integrare di più. Quindi sono due calcule per colore al giorno. Ognuna di noi, da chi è tu acquisterà e ti seguirà, ti darà tutte le istruzioni. Noi siamo qui per farti conoscere il prodotto e soprattutto poi la cosa principale è farti arrivare al tuo risultato. Perché tu sarai bellissimo passaparola, tu sarai una bellissima pubblicità. Vendere un prodotto e non avere risultati per noi non ha senso. Il nostro lavoro è proprio quello di portarvi al risultato, di portarvi ad innamorare di questi prodotti per la vita. Per la vita è una cosa seria, per la vita significa per sempre bene e questo per noi è in massa. Poi abbiamo, per finire questo circolo colorato, le omega completamente vegane, sono 5 tipi di omega e le omega, se vi andate a informare, aiutano un sacco. Hanno un alto potere antinfiammatorio, aiutano nel discorso del sangue, degli occhi, della vista, dei muscoli, il discorso metabolico. Quindi tutto quello che trovate nei benefici della frutta e della verdura, nei benefici dell'omega, noi abbiamo racchiusi in questi prodotti. C'è una bellissima campagna adesso in questo mese della Fuse Plus, proprio winter, si avvicina all'inverno per prepararci al freddo, per prepararci al cambiamento di stagione, per essere più performanti, per aiutare il corpo in tutti i sensi. Purtroppo noi piacciamo la salute solo quando non ce l'abbiamo. Se invece andiamo proprio a prevenire, come si dice, prevenire è meglio che curare, sarete veramente bene. Io ti dico che a 40 anni mi sento molto più energica, molto più bella, molto più performante, molto più reattiva di quando ne avevo tristato. Poi cambia la testa, ovviamente cambia il disco, sale l'autostima, è tutto un mondo bellissimo da scoprire e da vivere. Buonasera a tutte ragazze. Questo è il prodotto di punta della Fuse Plus a cui io non faccio mancare nessuna cliente, perché l'esperienza di Fuse Plus deve essere incompleta con questi. Poi abbiamo altri prodotti ovviamente, vi ho parlato del pasto sostitutivo. Il pasto sostitutivo abbiamo tre varianti, adesso ve le faccio vedere tutte, così le potete vedere tutte questa sera. Partiamo dalla versione salata, sono le vellutate, in inverno vanno da paura, sono buonissime, le mangiano anche i bambini, io gli faccio con la minestrina, con la minestra, alla mattina mi piacciono tanto con i tortellini veramente. Arriva, sono 60 di queste, sono monodosi, le puoi fare con 100 ammelle di argume, quindi puoi fare una frittatina o tipo un tortino, o le puoi fare semplicemente con 200 ammelle di acqua calda, la porti a bollore e metti la bustina e spronta la zuppa. Per le amanti delle vellutate questa è veramente pazzesca. E poi abbiamo sempre un sacco, un sacco di ricette. Arrivano 60 di queste, quindi mangiandone uno al giorno ti durano due mesi. Poi andiamo sul discorso tempo ragazze, perché molti di voi non la vorrei provare un mese, ma poi ci arriviamo. Stessa quantità per le barrette, io le chiamo i miei biscotti, il mio sgarro ma non è vero, perché io le adoro. Abbiamo due gusti, abbiamo il cioccolato e i frutti rossi. Questa è la grandezza, così vi rendete conto, faccio come quelle che truccano. È un pasto completo, sì, è come lo shake, sono utilissime da portare in giro quando hai il pane, quando sei al lavoro fuori, non devi portarti shaker, c'è la barretta e sono morti. Una vera cultura, anche queste sono 60, quindi prendendole una tuta cultura da due mesi, e mezza la puoi mangiare a spuntino, ma io sono sincera, ve lo dico, io la mangio tutta a spuntino. Questa qua, una volta che la apri, la finisci. Quindi va benissimo abbinata con il tè per la colazione, un pasto, o noi lo accocchiamo con il yogurt, un cappello, una goduria. Ci puoi abbinare della fruta e anche dell'avventura. Ma che fai la fame? Ma sostituire un pasto significa, ah perché vado in ipocalorica, quindi dimagrisco? Anche no. Ovviamente l'azienda ti dice che sostituendo due passi al giorno, colazione o pranzo, colazione o cena, questo va in discorso di perdita di peso, assolutamente sì, ma un solo pasto va più che bene, perché l'alimentazione bilanciata non la fa nessuno, un'alimentazione sana non la fa nessuno. Se hai dei chili in più è sicuramente sbagliata l'alimentazione. E poi abbiamo il prodotto che io amo, adoro, stra amo, adoro, e non potrò occuparne mai a meno, il pasto sostitutivo in polvere. Questo qua, lo shake complete. Cioccolato e vaniglia non ha un gusto forte, ok? Sono varianti dolci, ma non ha un gusto forte. La vaniglia è molto buona, il cioccolato è molto buono. Ovviamente la vaniglia è più variabile, perché la posso mettere con tutto, la posso fare anche salata. Il cioccolato è un po' più buono, però chi piace? Il cioccolato è bomba, proprio, ok? Quindi per questo io consiglio sempre di provare le metà, tre buste e tre buste. Queste te ne arrivano o sei buste, quindi tra il cioccolato e la vaniglia, tra la vaniglia e il cioccolato, o tutta la vaniglia, o tutto il cioccolato. Però il mio consiglio è quello di variare, perché noi ci spacchiamo, no? giustamente, di provarli entrambi, perché noi abbiamo veramente una miliade di ricette. Ogni giorno nel nostro gruppo postiamo dalle 30 alle 50 ricette. Ti stancherai di starti dietro, quasi. Ovviamente avrai sempre una persona di esperimento che ti segue su WhatsApp, ti segue su Telegram, come sta comodo a te. Il programma te lo mandiamo noi, perché l'azienda ti spedisce il prodotto e la fattura, ok? Il resto è il nostro dovere, accompagnarti in quel programma, sopportarti in quel programma, per farti raggiungere il tuo obiettivo. Perché la nostra gioia non è la vendita, ma il tuo sorriso. La nostra gioia è vedere il tuo cambiamento e poi magari inizierai a farlo in passaparola con tante persone possibili. Questo è il nostro scopo. Quando entra proprio in testa questa cosa, penso che sia una cosa naturale, pensare che noi siamo interessati a voi e al vostro risultato. Non ci interessa di vendere un prodotto che poi non vi dà risultati. Ne parlerete assolutamente male. Per noi è importante la pubblicità massa parola, perché noi lavoriamo proprio nel vento ormai. In più, questo è possibile avere il monodose, quindi la bustina che ti puoi portare al lavoro in giro. Magari vai anche al barbic a fare un cappuccino e ti fai shakerare questa bustina o questa al cioccolato e alla vaniglia. In questo caso ti arriveranno solo 4 buste gratis, quindi 2 alla vaniglia, 2 al cioccolato o 4 vaniglia, 4 al cioccolato e 30 monodosi. Quindi 30 alla vaniglia, 3 al cioccolato, questo il busto lo scegliete voi. Questi noi non è che abbiamo tantissimi prodotti, ma sono quantissimi e sono buonissimi. Questo ce lo dice proprio i nostri bambini che ne vanno pazzi. I nostri bambini dai penso dai 2-3 anni in su mangiano Giust Plus, perché ci vedono noi e ci sono bambini che rubano lo shake alla mamma, ci sono bambini che rubano i pancake alla mamma. Mio figlio ormai ha 7 anni, l'altra ne ha 12, lo faccio per tutti, non ve lo ruba nessuno. Poi, altro prodotto e non abbiamo finito, altro prodotto abbiamo il Buster, Boster, come lo chiamate? Il Buster Complete Juice Plus G2, contiene il glucomannano, è una fibra che a contatto con l'acqua si gonfia, quindi è un prodotto che va preso prima del pasto, anche del pasto sostitutivo, ti dà una sorta di sazietà e ti aiuta a assimilare meno calorie. Tutto qua. È un prodotto molto venduto, sinceramente, aiuta tanto, anche a livello del grasso addominale, ma ricordiamoci sempre che Juice Plus è un programma naturale e che il fine ultimo è quello di insegnarti a mangiare bene, a capire che oggi mi va la pasta? Sì! Mi va la carne? Sì! La nostra varietà è proprio questa, la mattina ti fai il pasto sostitutivo e ti prendi le casse, la mattina ti fai lo spuntino e ti prendi questo l'avevo dimenticato, adesso ti parlo anche di questo, l'uplift, ti parlo, poi a pranzo ti prendi il Buster prima di pranzo, ti fai lo shake, il tortino o carboidrati, proteine e verdure, non si scherza, poi si deve mangiare, perché il nostro colpo ha bisogno di energia, spuntino e una nuova, è una cena completa, che sia proteine, verdure, carboidrati o che sia il pasto sostitutivo, perché molte persone prendendo il pasto sostitutivo la sera digeriscono da paura e dormono bene. Poi questo ne parlerai assolutamente con la ragazza che ti ha invitato con la ragazza con cui hai acquistato. Io comunque sono sempre a vostra completa disposizione, questo è uno dei miei gruppi, sono amministratrice, questo è il mio lavoro principale, do la mia vita a Just Plus e alle mie clienti, perché tutte devono essere soddisfatte, assolutamente, tutte dovete capire che ovvio vi dovete impegnare, non c'è la pacchetta magica, non è che se prendo lo shake mi cambia la vita, no, ti devi impegnare a prenderti cura di te, questa è la cosa più importante che devi fare, che devi decidere, perché il peso magari che ti porti addosso, la difficoltà nel digerire, nel flusso gastrico dipende da tutta l'alimentazione, di tutto. Magari sai continui mal di testa, può dipendere dall'alimentazione sbagliata, continui caffè, naturalmente insieme a noi capirai veramente che il mangiare colorato è veramente bello e costa poco e anche il tempo costa poco. Quando tu diventi la tua priorità, perché questo è l'unico colmo che hai, succede la magia. Quindi questo è un altro nostro prodotto, questo ha 90 bustine e quindi presso due volte al giorno dura 45 giorni. Lo shake che non vi ho detto prima sono 90 pasti totali, quindi non c'è un, poi parliamo alla fine della durata del programma, sono 90 pasti, quindi se ne prendi uno al giorno dura 3 mesi, se ne prendi due al giorno dura 45 giorni, se variamo un po' con il programma di solito dura due mesi, due mesi e mezzo, ok? Ma noi sapremo assolutamente accompagnarti in questo programma, non sarai mai sola, saprai come fare, cosa fare e sarai tu portata anche nei momenti di down, perché tanti momenti di down ce li abbiamo tutti, assolutamente, dove oddio mi sei fermato il peso, è normale che mi si ferma il peso, all'inizio perdiamo liquidi, poi andiamo a lavorare sulla massa magra e massa granza, ma la cosa importante è che tu continui perché devi dare stabilità al tuo corpo e riattivare il metabolismo, nessun prodotto riattiverà mai il tuo metabolismo, sono le abitudini sane e quindi integrando il metabolismo aiutava ancora di più. Poi abbiamo il nostro prodotto fantastico, mega galattico, il nostro uplift è una bevanda naturale, completamente naturale, energetica, aiuta a risvegliare tutte quelle cellule addormentate che abbiamo e stanche, appena le bevi fanno tipo quella della perronelle, c'è nessuno, c'è un'esplosione di energia e è tutta naturale, qui abbiamo solo il limone, guava, mango, la buccia di limone, la barbabietola e la marena, ha un gusto buonissimo, si beve 500 ml di acqua durante la giornata, io per me i benefici che ho trovato con questo sono veramente, mi cambia il rumore, quando sono stanca prendo un uplift e cambia la giornata, mi fa bere tantissimo e quando ho qualche attacco di noia, perché più tanto ti noia e quindi di fame perché sono a casa, se io bevo questo a me passa. Questo che arriva in questa scatolina da 30 monodosi, quindi ti dura un mese perché ne facciamo prendere una giornata, io la prendo anche tu a volte. Questo qui sono 90 bustine, te l'ho detto e te lo faccio vedere, questa sera ti faccio vedere tutti i prodotti, questa è una bustina da prendere, una, da prendere prima dei passi, non è ananas, no, è glucomannano, tu che lo conoscevi per ananas, vero? Questo che ti hanno parlato tanto del bruciagrassi, i prodotti bruciagrassi non esistono ragazzi, hanno dei benefici che ci aiutano a assimilare meno calorie, ma i bruciagrassi naturali, sì, c'è l'ananas, se la vai a cogliere in Africa intorno, sono così, ci prendiamo un po' in giro perché veramente oggi come oggi, dopo sei anni inizio plus, dopo i benefici che vedo, come reagisco alle vacanze, come reagisco se metto anche un chino o due dopo magari sto una settimana fuori normalmente, non è che mi porto tutti i prodotti, con me non mancano mai queste, però se vado fuori non mi porto costituzioni, magari mi porto la barretta in treno, come ne avete visto, però non sto a portarmi, oppure oggi ho paura di compromettere tutto, no, perché quando il metabolismo attivato, quando sai come gestire le giornate, in due giorni tu riprendi tutto, lo stile di vita sola non te ne accogli, è questo in cui punto tanto, la mia domanda è che obiettivo hai? non pensare solo al peso, perché l'obiettivo è quello di perderlo, di mantenerlo, ma soprattutto quello di stare bene, perché noi lo sappiamo come perdere peso, con una dieta epocalorica, togliendo, 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 poi magari ci sentiamo male, no? no, non fa per me, è certo, devi saggeri sempre, queste sono le diete che fai da lunedì al venerdì, poi sabato e domenica, parmigiana dalla suogera, vai, e poi ricomincio lunedì, e poi dico, non ce la faccio, non fa per me, lo provate di tutte, diciamo che le provate tutte nella direzione sbagliata, ok? Io mi impegnerei in un programma serio, in un programma che seguono tantissime donne come siamo noi, in un programma che mi parla di frutta e verdura, in un programma dove mi fanno mangiare tutto, e non devo andare in chetosi, o devo togliere questo, devo togliere quello, e lì è il grande sacrificio, però lo faccio per buttare questi 10 kg, poi? La domanda è, poi? Anche il passo sostitutivo, che tu magari hai tanta paura, perché dice adesso mangio questo passo sostitutivo, dopo mangio normale mi cerco nel grasso, no, non dico il concreto, se il tuo corpo lo riattivi, se il metabolismo è attivo, ma ci dà paura, io mangio veramente tanto, 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 fai attività fisica? Sì, faccio attività fisica, perché voglio un corpo modificato, perché a tavola si modella, si parte il grasso, ci si asciuga, però se vuoi i muscoli devi fare attività fisica, a tavola i muscoli non si creano, purtroppo, e poi io sto benissimo con l'attività fisica, ma questo poi è il discorso che non ho mai fatto attività fisica fino a due anni fa, ok? Ripeto, 40 anni, quindi non è mai tardi per fare scelte migliori, assolutamente, il discorso del quanto dura questo programma, io lo voglio provare per un mese, io voglio assolutamente capire perché non mi fido bene per un mese, che cosa farai poi dopo un mese? Beh, continuo. La missione dell'azienda è quella di educarti, di ispirarti a uno stile di vita sano, quello che ti dico io, ma tu vuoi iniziare qualcosa che funziona? O vuoi vedere come va? Perché se io inizio qualcosa che funziona, mi impegno e funziona per forza, se inizio qualcosa per vedere come va, magari le prime due settimane, perdo peso, poi mi fermo un attimo, smetti, io ti dico non iniziare nemmeno, perché se puoi iniziare qualcosa di serio che funziona per sempre, impegni, questi prodotti durano quattro mesi, le premio, quattro mesi di frutta e verdura tutti i santi giorni, nel semplice gesto, ho preso quelle più sembratica, faccio, abbrava cicciccocco, in una semplice capsula, queste io le mastico e queste io le apro, perché non le ingoio, le apiche le ingoie, io non riesco a mandarle giù e quindi le apro, insieme lo shake con l'acozzo, con qualsiasi cosa, ma ogni giorno darei quello, veramente sarà un'esplosione, il corpo dirà wow, ma facci caso, se mangi male, ma quanto stai male, se mangi bene, ma quanto stai bene, e allora lo vuoi solo per un mese? Cioè vuoi perdersi cinque chili, poi? Carissima donna mia, è il momento di decidere che puoi stare bene per sempre, che te la smetti e le fanno le vie d'effetto yo-yo su e giù, ti dico che puoi sgarrare, ti dico che non succederà niente, se inizi a fare con costanza, ma io sono costante, i miei figli mi fanno continue tentazioni, nutelle, nutelline, poi io sono stressato, devo mangiare il mondo, ok, questo è tutto vero, ce l'avevo anch'io, che cosa stai ottenendo? qualcosa che non vuoi, quindi devi decidere che cosa vuoi ottenere in primis, perché non vuoi che compri tutto, puoi anche comprare e non prenderlo, non serve a niente, io voglio donne soddisfatte, voglio donne che si prendono la responsabilità dei propri risultati e che stanno bene, e che stanno bene, ritrovano il sorriso, ritrovano la loro costuma, ritrovano la forma fisica, e la forma fisica non significa modella, non significa 50 o taglia 40, significa che stai bene, che stai bene, e se anche hai qualche dolore, non fa niente, l'importante è che sei pulita, che sei piena di energia, che smetti di essere triste quando ti guardi uno specchio, questo per noi è il funeo, questo per me è quello che insegno alla mia squadra ad amare Just Plus, ad amare Just Plus, Just Plus è un programma, assolutamente questo programma, come vi ho detto, magra, non magra, perdere peso, mettere peso, vogliamo i nostri figli, sono pasti completi, ma io lavoro tanto sul fattore energia, energia, se non mangi frutta e verdura, se ti senti sempre stanca, potrai pesare anche 50 kg, ma come ti senti? Perché puoi mettere un jeans e poi magari sei stanca di fare qualsiasi cosa? Questa è l'integrazione, l'integrazione che entra nel tuo corpo, che è, ripeto, il tuo tesoro, e ti fa tirare fuori da nessuno, ma ripeto, proprio ti senti anche la morbidezza della pelle, come prenderai l'abbronzatura medio, un corpo sano, lo vedi subito, un corpo sano non è un corpo umano, un corpo sano è energia, è pulizia, ovviamente è una bella silhouette da vedere, non c'entra niente con la magrezza, ok? Questo è Just Plus, questo siamo noi, troverai con noi un gruppo di clienti pazzesco, un supporto meraviglioso, è la cosa a cui teniamo di più, il cliente viene prima e tutto, sicuramente voi comprate a scatola chiusa, quindi non potete sapere se vi piace un gusto o no, fatte che la ricetta giusta per voi la troviamo, però anche se non fosse, potete rendere i prodotti senza nessun problema, l'azienda ha come il fine ultimo, il cliente, la soddisfazione del cliente, nessuno vi vende un prodotto e poi vi lascia così, nessuno vi vende un kit e poi te lo devi bene se non ti piace, no, ripeto, c'è una bellissima campagna per i clienti, quindi state tranquille, fatto del cotto, sì ma costano tanto, no, non costano tanto, hanno un sacco di valore, sicuramente se andiamo a fare i confronti con altri integratori, con altri prodottini che te lo vanno per 30 giorni e poi manco ti piacciono, perché hai speso 30-40 euro, va bene, se non mi piace lo butto, hai buttato 30-40 euro, io ti dico che questo è un prodotto buonissimo, che non lo butti, che hai risultati e che non sei sola, questo è il valore aggiunto di la serietà, è un brand, è un brand posizionato, è uno dei prodotti migliori che hai in circolazione e più sani e quelli che non ti stravolgono la vita, e se li hai provati, sì l'ho provato e non c'è uno risultato, qual è il tuo fine ultimo, come l'hai seguito, e non ti dico mai come si è stata seguita, ma è questo il tuo fine ultimo, come hai seguito, che intenzioni avevi, magari volevi perdere 5 kg in 2 di 15 giorni, e ne hai pensi 3 non sei stata contenta, il nostro fine ultimo è farti sentire bene e contenta di ogni beneficio che avrai, perché se ci pensi quando mangiavi il juice plus stavi benissimo, e questo io lavoro prima, sono 6 anni e mezzo per farlo con voi, questa è la cosa più importante per me, bene, non aggiungo altro, non so se avete qualche domanda, vediamo, 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 le nostre storie sono storie di successo, storie di donne che non hanno ripreso peso, che comunque continuano a mangiare bene, che continuano a scegliere il juice plus tutti i giorni, perché il juice plus ha un valore e non ha un costo, perché ripeto, spendere 4 euro al giorno, 3 euro al giorno, 5 euro al giorno, 6 euro al giorno, li spendi comunque a avere un pasto, quindi andrai a sostituire il pasto, avrai l'integrazione, viva, e ti sentirai veramente bene, quello che ti consiglio in questo momento è iniziare proprio l'esperienza di juice plus, proprio in questo periodo, perché una volta che la provi, ti bastano 10 giorni per dire, ho aspettato tantissimo, ho clienti che hanno acquistato dopo 6 anni che mi conoscevano, ognuno è sedente assolutamente, io li spendi tutti, noi non siamo pressanti, noi siamo qui a dirti, si sta bene, e non si sta bene perché te lo voglio vendere, si sta bene perché sto bene, questa è il passaparola più bello, quando tu compri qualcosa vai a vedere le recensioni, noi siamo recensioni viventi di questo prodotto, se non lo mangiamo non lo venderemo mai a nessuno, se non lo mangiamo non lo consiglieremo mai a nessuno, questa è la mia squadra, questa è la nostra professionalità, quello che ti garantisco, non ti posso garantire il risultato, perché non lo so quanto ti impegnerai e quanto capirai, ma quello che ti garantisco è che troverai professionalità, serietà, tanta felicità, tanta energia, qualcosa che ti coinvolgerà, che tu tutte le mattine dirai, oh me do l'ora di darmi sto tortino, non me do l'ora di prendere le premie, questo per noi è la più grande vittoria, ti ringrazio di avermi guardata e ascoltata fino adesso, se hai qualche domanda e mi puoi scrivere in privato, trovi il mio profilo qua in alto e mi scrivi in privato, o vi lascio il mio contatto whatsapp o messager come volete, noi siamo qui per voi, grazie come sempre, spero di aver spiegato tutto, Just Plus è la nostra grande famiglia, Just Plus è la nostra scelta, è la mia scelta per me e per la mia famiglia, ripeto se non lo amassi così tanto non sarei qui da sei anni e mezzo, se non lo amassi così tanto non lo darei e condividerei con tutta la mia famiglia, anche mia nonna di quasi 90 anni vuole, Sara prendimi queste per la testa, sempre, o le caramelline perché mi aiutano, o le zuppe perché le mangio molto bene, e questo è quanto, questa è una grande famiglia, questa è una scelta che si entrerà a qualche parte della tua famiglia, porterà un sacco di sorrisi e un sacco di salute, che cos'è per me, Just Plus, Just Plus è una nuova vita a colore, vi voglio bene, buona serata grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.